Alberto Diari di Mega International. Di cosa si occupa la sua azienda e in che modo può essere di aiuto a organizzazioni come banche e assicurazioni nelle sfide future? Mega è una software company che ha l'obiettivo di supportare i clienti nella digital transformation. Il nostro applicativo si chiama OPEX e ha come obiettivo quello di fornire una visione a 360 gradi sui processi, sulle persone, sull'IT e da qualche tempo anche sulla data governance. Siamo leader nei due settori di riferimento in cui operiamo, quello dell'enterprise architecture e quello della GRC, governance risk compliance. Come possiamo supportare le banche assicurazioni appunto nel dare una vista a 360 gradi nei progetti di digital transformation rendendo l'azienda in grado di prendere le decisioni corrette, di pianificare per tempo e di adeguarsi al cambiamento.